Il suo interesse e la perseverante continuità dello studio e ricerca per la tutela delle ricchezze del patrimonio storico, architettonico e culturale della città grato e riconoscente conferisce a Giuseppe Tosti, ingegnere, la cittadinanza oraria di Città di Castello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.